Ebbene, cari amiche e cari amici di Terrestore News, buongiorno, una bellissima sorpresa per voi e tanta emozione per me perché per la prima volta in assoluto sono accanto al grande maestro della comicità italiana e non solo, hai fatto tante cose maestro, eh? Eh beh, quante cose ancora faremo? Sono che voli ancora? Allora, io ho saputo, mi sono informata sulla tua vita, anche se in realtà ti conosciamo tutti. Ecco, so che hai vinto come modello. Modello in che senso? Eri, hai vinto? Di bellezza? Sì. Ad ero ragazza, avevo 17-18 anni. Vinsi un concorso che si fece in questi paesi, ogni tanto ti partecipava su giornali, si fece, per fare l'attore di fotoromanze. Io vinsi il concorso e feci due o tre fotoromanze. Avevo i capelli ondulati, ero magro, per farmi un pigiama allora bastavano 5-6 righe, adesso ci vogliono 1200-1300 righe. Vabbè, comunque insomma, da ragazzo sì. Ecco, poi, ecco, conosciamo Lino Banfi anche in altre sfaccettature. Ecco, canto. E quando cantavo, cantavo. Poi mano 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 si è affievolita la cosa perché sono diventato più attore, quindi meno tempo per cantare. Ma in ogni trasmissione ho fatto le mie belle figure con Interparisi, ho cantato con Alsnavour, con Beko, con Roger Moore addirittura e poi con tutti i cantanti italiani perché ho fatto domenica in 40 puntate, venivano i puo e cantavo con i puo. Approfittevo, insomma. Adesso non lo faccio più, c'è poco tempo per farlo. Ecco. E poi c'è stata una tua grande passione che poi, insomma, in realtà è stato un ruolo bellissimo, quello forse tra i più seguiti, quello del ruolo di allenatore. Allenatore sì, Orosso Canà, ancora adesso seguono i miei consigli, tutti quanti, addirittura quando mi incontrano i mister veri, mi chiamano mister, loro a me, ciao mister, come va? E io dico, cari ragazzi, fate questo, fate il metodo 5-5-5. A quando Ancelotti, grande amico mio, da quando era ragazzino, passò allenatore del Paris Saint-Germain, io ho scritto il telegramma in francese, rappel to all sang sang sang, e pare che lui l'abbia fatto vedere a tutti i giocatori, poi ha spiegato chi ero io, ho fatto vedere il film, l'allenatore nel pallone, che si sono subiti quasi tutti i giocatori stranieri appena arrivati in Italia, non parlano manco l'italiano, gli appioppano l'allenatore nel pallone con Banfi e quelli ridono da morire pur non capendo molto. Poi invece mi conoscono e diventiamo amici. Ecco, io e te, Carolino, abbiamo una cosa in comune, la passione per la Roma, perché anch'io sono giallorossa. Ah, non lo sapevo. Ecco, i calosini che tifano la Roma, dalla piccola Roma alla grande Roma. Ah, non lo sapevo e poi ho scoperto che anche il nostro Presidente del Consiglio attuale che è dalla zona nostra, di San Giovanni Rotondo, credo vicino lì, è un grande romanista, quindi per pugliesità, per romanistità siamo tanti. È vero. E ora ti faccio vedere una cosa? Sì. Eccola qua. Vediamo, vediamo. Eccola qui. Se io dico Canosa Calcio 1948, questo è un omaggio per te. Ah, che carino, strano. Canosa Calcio 1948, io di certo non c'ero, anche perché non ero qua. Io sono scappato via da Canosa molto presto, però Canosa è un paese che io un po' conosco, devo dire. Non ne ho mai parlato, pare. Sono 60 anni, se facciamo il conto di quanti milioni o forse un miliardo di volte l'avrò detto Canous, Canosa, Canosa, però insomma la gente è un po' entrata nel cervello, anche all'estero, devo dire. Grazie, grazie di questo bel ricordo. E oggi, stasera, proprio qua a Canous, si festeggia questa rassegna di film miei e io facevo un attimo caso a questo discorso che non mi ero fatto prima, col senno del poi si capiscono tante cose, con gli 83 anni pure. Mai è stato fatto una cosa per me, un festeggiamento per questo signore che ha fatto molto per questo nostro paese, tanto farà, perché poi la fortuna è, non tanto per me perché sarà una rottura di pelle, anche quella, come si dice, non fatto epidermico, proprio le pelle, una rottura di pelle, anche questa dell'UNESCO, però lo faccio tanto volentieri come faccio ancora da 25 anni l'ambasciatore Unicef, con una differenza, lì c'è da fare del bene, andare a trovare i bambini che soffrono e dargli una mano. Nell'UNESCO è per orare la causa di Canosa, di Canous, che già esiste da tanti anni la domanda per l'UNESCO, per diventare un patrimonio. Però per diventare un patrimonio, i cari ragazzi di Canosa che siete anche all'estero, ci vuole la buona volontà da parte di Canous, Nandres, Nandres, Nandres. Sto analizzando di tutta la Puglia, dal Gargheno fino al Salento, un paese dove esiste, dove pare sia proprio nato il termine nemo profeta in patria, è proprio Canous. Appena Canosa tu raggiungi un po' che stai diventando qualcosa o qualcuno in qualunque settore, c'è la gara dai 32.857 persone a spezzarti le gambe. Invece di coadiuare, invece di dire, oh, diamo una mano a questo. Questa è la preghiera che vi faccio io, perché poi io più di tanto, cercate di cambiare, cercate di coalizzarvi, perché in una città così, come faccio io a perorare che diventiamo patrimonio dell'UNESCO se non c'è un pullman che ci porta a vedere gli ipogei, a vedere le bellezze di qua, o ci sarà, immagino, degli alberghi, delle cose, ma bisogna mettersi insieme, non dire, uno così, no, se facciamo qualcosa, io credo, no? Certo, assolutamente, sono d'accordo. E quindi, ecco perché stasera sarà un fatto anomalo che fanno il Comissario Logatto come chiusura di questa specie di piccolo festival dei 3-4 giorni che ha organizzato mio nipote, che qua nessuno conosce, poi non è uno. Non è vero, no, qua devo contraddirti, perché Riccardo Zagaria è un perno principale in questa città, perché davvero possiamo fare pochissimo senza di lui, eh? A Zagaria si chiama proprio. Sì, lo conosci? Figlio di mio fratello, adesso io consideravo che essendo morta mia sorella, la zia di Riccardo, ultimamente, che era l'ultima Zagaria con la quale io parlavo in bilingue, perché io sono bilingue, l'Andersen e Canusser, e mi toccava ogni volta che vengo qua a parlare due dialetti. Adesso invece, essendo morta Sabina, io parlerò solo Canussino, e quindi una talvolta mi tocca parlare sempre di Canuss, di Canuss, di Canuss, di Canuss. Lo faccio volentieri, quindi stasera quattro chiacchiere dopo aver fatto la proiezione del film li farò. Ecco, veramente poi un successo per questa prima rassegna, ovviamente anche a firma della Proloco, quindi ringrazio anche Elia Marro insieme a Riccardo, che hanno avuto questa idea bellissima e che ha coinvolto tanta gente, addirittura non c'erano posti a sedere, la gente ha seguito il film in piedi. Questi giorni, stasera mi auguro che essendoci io saranno ancora più in piedi, però la novità di stasera sarà che, visto che siamo in diretta, che Clemente, senza fare il nome, uno che fa dei taralli buonissimi, focaccia, c'è un grande amico nostro da tanti anni, ha deciso di fare il grissolino, un grissino speciale, molto saporito dentro, credo che c'è il seme di finocchio, curcuma, una sola cosa croccante, invece dei cosi che si prendono quando si va a vedere il film, come si chiamano? Popcorn! Dei popcorn si sarà il grissolino stasera, offerto all'inizio del film, quindi così durante la proiezione si sentirà trattum, 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 circa masticazione. Ecco, io però vorrei parlare, ovviamente abbiamo parlato di cinema, approfittando appunto di questa prima rassegna qui a Canosa di Puglia, però c'è stato il tuo primo amore, guarda un po' che vediamo se lo riconosci? Allora questo è un particolare del teatro comunale Raffaele Lembo, ecco questo l'ho realizzato io per un libro, Il sogno dello spazio, i teatri nel teatro, edito Adda, questo è un particolare che fa parte di uno dei palchetti appunto del nostro teatro e tra l'altro è molto significativo, non so se lo sai, questa mela che in realtà non è una mela, quasi no? No? Noi diciamo la percocca come simbolo di Canosa, ma in realtà, vedete, ecco proprio qui, e questo è veramente un dono che io ti faccio. Questo è bello, lo metterò sulla mia scrivania, perché mi fa ricordare il teatro Lembo, i primi passi che facevo lì, quando venuto da Andria, dove io sono nato, come si sa, avevo tre anni quando mio padre decise di trasferirsi a Canosa, mio padre che era il vero comico, un bercardo, andrasseno, lo chiamavano a Canosa, era il vero comico della famiglia, diceva sempre, tutti quanti eravano in Amer, tutti quanti eravano in Germania, troppo da Arras, cioè troppo lontano, noi usciamo andrasseno a Ciovicione, facciamo lo stesso di migrazione, dai andrasseno a Canaus, che sono pochi chilometri, e così ci trasferimmo qui, perché lui trovò terreno giusto per fare la coltura di cipolle e porri, che pochi sanno, che fanno dei semi colorantracite, che poi vengono macinati e mandati a ditte di medicinali per fare, ancora oggi esiste i foradantini, che è un purificatore dei reni, quindi mio padre, nella sua ignoranza contadina, andriese, già allora faceva queste cose, poi ci fu la guerra, quindi importazione di queste cose non ce ne furono più, il sacco dei semi ci ghiarrano, cioè diventarono e finirono i soldi, però l'esperienza di mio padre è servita a qualcosa, e stasera nel saluto si diranno tutte queste cose. Ah, a proposito, volevo dire una cosa, annunciarla, ci sentono anche le persone che stanno all'estero? Assolutamente sì, abbiamo tanti amici che ci seguono, dalla Russia, dall'America, dal Giappone, dappertutto. Prendendo le esperienze da mio padre, ortolano, andriese, come vi ho detto, e quindi le esperienze di quando a tavola ci spiegava perché stev, kust, zala, adesso parlo il canosino, o quell'altra cosa, per esempio la borragina, la burracce, che è una foglia, non so se la conoscete, di un'erba selvatica, anche medicinale oggi, però è anche buona da mangiare, mio padre queste foglie di borragina, li metteva a tavola, mio padre, ma perché io, ma mangiare a forza stufato, perché questo è come la granita di limone, la foglia di borragina, sì, fra una pasta e l'altra, proprio la carne, poi vuoi spezzare il sapore della carne col pesce, invece della granita di limone, denomusca la foglia di borragina, e quindi la bocca si pulisce, pensa a quale filosofia, però io ho preso la palla al balzo, a canosa dicevano sempre, recca, ficht wohlfellartist, va bene, e come fate, come lavoro, e come vuole fellartist, diceva mio padre, quello è lavoro, come un altro, adesso, a 83 anni, accontento mio padre che non c'è più, a dire, mo lavoro, ho fatto un marchio che si chiama a Montalbanfi, che garantirà dei prodotti pugliesi di alcune aziende selezionatissime nostre della zona, per dei prodotti avvalorati già dai grandi GDO, dai supermercati, già dalle grandi aziende, loro già si conoscono queste aziende, dove ci sarà la mia faccia sul packaging, si dice, però non sapevo cosa significa stufato, e dove c'è scritto, io metto la faccia, il cuore, la Puglia mette il resto, finalmente dopo anni che sto lavorando a sta cosa, dopo la benedizione di Emiliano che mi ha fatto diventare ambasciatore della Puglia in Duord, e allora la Confindustria, la Confagricoltura, le carte sono in regola, l'orecchietteria aperta a Roma, ci saranno queste 4-5 aziende che manderanno dei prodotti selezionatissimi, l'olio, adesso proprio sto conoscendo, fra qualche minuto, quando vi lascerò vi saluterò, questa azienda di Andrea che parteciperà come olio, buonissimo, Evo, proprio l'Evo Evo che prima non sapevamo cos'era Evo, extravergine d'oliva, allora io scherzando dico sempre, non deve essere né un Evo, quello paccando a sé, la coratina, né un Evo dolce, un medio Evo, e questa è la battuta che mi fa piacere sempre dire, quindi queste 5-6 aziende rappresenteranno la faccia di Banff e arriverà pure all'estero, per questo ve lo dico, c'è già richiesta di questi pacchi con i prodotti paniere di lino, già richiesti dall'America del Nord, dall'Australia, dal Canadà, quindi dopo voi direte, oh voglio, oh voglio anch'io, insomma, poi... Poi te lo pubblicizziamo, eh, questa è la parola? Sì, si, si, si chiama bontà Banff, è talmente facile, è arrivata automaticamente con la bontà mia, tante volte è la bontà che diventa, anche ve lo posso dire, una rottura di pelle, come ho detto prima, non un fatto epidermico, ma proprio, però io, è più forte di me, sta nel mio DNA, poi mi sono stanchato a parlare sempre di Can House, di Can House, basta, 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 perché sembra una cosa voluta, ecco, vediamo, vediamo, tanto vale farlo bene, o si fa o non si fa, allora, noi l'abbiamo fatto, can house, can house, che non significa la casa dai cani, come si pensava, can house, ma significa canosa, detto nel nostro linguaggio. Ecco, fedeli a Roma, eh? A Roma, a piccola Roma, i Sette Colli, e io poi con il complesso che ho, che sono grasso, Sette Colli mi fa ricordare, anzi, stasera, ecco, voglio chiudere questa nostra chiacchierata simpatica, una cosa che io dirò stasera ai canosini, ma lo dico qua a voi, così circola in rete, quando lascerò le cuoia, come si dice, stenderò le cuoia, fra qualche anno, io ho chiesto, mi hanno detto che 7-8 anni di proroga me li danno, quindi sono 83 fino al 90, siamo sicuri che ci sono, se a qualcuno di Canosa o di Andria viene in mente di fare la strada intestata a Lino Banfi, l'unica raccomandazione è, va bene strada, vicolo, via, viale, non vazzardate a fare largo Banfi, se no da indalato, perché io già tengo i complessi miei di largo Banfi, quindi spero che non ci siano. Grazie, grazie. Però un'ultima battuta, se dovessi fare un film per Canosa, come sarebbe? Comico, drammatico? Ma sicuramente, come feci Shushu con la fiction, sarà drammatico sotto certi aspetti, ma soprattutto comico, con le generazioni a confronto, io che rappresento l'Omega e con gli Alfa di oggi, che sono i ragazzi che per fortuna hanno una mentalità diversa dai loro nonni e dai loro papà. Grazie, grazie Lino Banfi, questo è tutto amici, a più tardi.